I bastardi di Pizzo Falcone 3, il riassunto della quarta puntata. Nel corso del quarto appuntamento, i poliziotti hanno indagato sulla morte di una sposa. La vittima era incinta e inizialmente si sospetta del futuro cognato, dato che sparisce per diversi giorni. Nel suo rifugio la polizia trova quadri che ritraggono la donna e sono convinti che quindi il ragazzo fosse innamorato di lei, ma in realtà non è così. Il ragazzo era gay e non era il padre del bambino di Francesca, la vittima. La sposa aveva una relazione con Achille, suo cugino, così le indagini volgono verso di lui. Achille viene arrestato, ma in realtà è innocente. Grazie ad una lente a contatto, si scopre che la colpevole è la moglie di lui. La moglie di Achille era anche la migliore amica della vittima e l'ha uccisa perché lei aveva una relazione con suo marito. Riguardo ai personaggi, Alex cerca di affrontare i suoi problemi e va dallo psicologo. Lui le dice che non vive veramente, ma che si è costruita una corazza intorno a sé e che questa corazza, invece di proteggerla, la rende vulnerabile. Alex, infastidita dalle parole del terapeuta, se ne va. Litiga con Rosaria, si sente prestata da lei. Rosaria non sa che fare e incontra lo psicologo di Alex. Veniamo così a sapere che il terapeuta è l'ex proprio di Rosaria. Nel corso della puntata perde la vita anche il fidanzato della vittima. Lo iacono dice ad Alex di chiamare l'ambulanza, ma lei non ce la fa, rimane imbambolata. Sente un fischio e le sue orecchie non sentono più nulla. In un attimo si ritrova al ristorante, in mezzo alle macerie causate dalla bomba. È nel panico e non riesce a fare nulla. Quest'evento però le fa capire che deve affrontare il suo disturbo da stress post-traumatico. Dopo aver spaccato un oggetto, ha un'intuizione. È così, lavorando, che può superare il suo problema. E soprattutto, iniziando ad ammettere che ha un problema. Elsa incontra il collega della Piras, interpretato da Martari. Si capisce che i due non si vedono da anni e lui la vuole invitare a cena con la figlia. Lei rifiuta. Dal loro atteggiamento si può supporre che in passato abbiano avuto una storia. Lo iacono scopre del trasferimento di Laura, ovvero del fatto che lei vorrebbe andare alla Cassazione a Roma. I due discutono, dato che lui avrebbe voluto che lei glielo dicesse prima e che non gli nascondesse la verità. Lei lo accusa di accontentarsi e gli dice che se l'amasse veramente, andrebbe a Roma con lei. Francesco sta sempre fuori casa e quando è in casa pensa solo alla bambina, trascurando la moglie. Ha fatto tanto per rimettersi con lei, ma proprio ora che sono nuovamente insieme, forse si sta rendendo conto che non la ama più. Inoltre, nel promo della quinta puntata, si vede che Giorgia gli chiede se starebbero ancora insieme se non ci fosse la bambina e lui gli dice che si sta sforzando per far andare bene le cose. Lei, in preda alla rabbia, gli dà uno schiaffo. La situazione si è quindi ribaltata. Si erano lasciati proprio perché era lui ad essere violento. Adesso lo è lei. Letizia, che si è finalmente svegliata, a fine puntata può tornare a casa. Rivela all'oiacono di aver avuto una relazione con Paolo Mainetti, un uomo molto pericoloso.